Ho presentato un'interrogazione a risposta immediata che sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale di martedì per apprendere informazioni urgenti sullo stato dei lavori nel ponte all'uscita della Galleria del Furlo direzione Fano. Sono mesi infatti che la Galleria del Furlo e i tratti adiacenti sono interessati da lavori, non ultimi quelli che hanno comportato la chiusura di una corsia nella canna Montimare e la posizione di un finto autovelox all'uscita della Galleria stessa per i lavori del ponte direzione Fano. Questo finto autovelox dissuasore determina spesso la formazione di code di auto all'interno della Galleria, oltre che improvvise pericolosissime frenate che mettono a serio rischio la sicurezza degli automobilisti. Inoltre all'interno della Galleria, malgrado i ripetuti solleciti, non è stato ancora installato un adeguato sistema di segnaletica luminosa di emergenza e per questo che ho interrogato la Giunta per sapere da ANAS quando finiranno i lavori nel ponte all'uscita della Galleria del Furlo e la consecutiva riapertura a due corsie della canna Montimare. Sono intervenuto con questo strumento ispettivo anche perché ANAS mi ha comunicato che intende essere contattata solo tramite il suo addetto stampa, che tra l'altro nel mio caso non ha fornito le risposte e richieste in tempi utili ai cittadini. Questa cosa io la reputo assurda sia nei confronti dei cittadini che di un rappresentante istituzionale, tanto più quanto riguarda una società a partecipazione statale come ANAS. Grazie a tutti.